Tavolo d'incontro alla stecca fra attività produttive e vertici dell'amministrazione comunale di Torre del Greco. La crisi economica continua a mettere a dura prova le attività produttive della città del Corallo, con interi settori in ginocchio. Basti pensare ai ristoratori chiusi per mesi dalle normative anti-covid oppure aperti a singhiozzo. Il tavolo d'incontro svoltosi ieri mattina negli uffici della stecca a Torre del Greco è servito proprio a rappresentare queste problematiche ai vertici comunali. All'incontro erano presenti l'assessore al bilancio, l'Ottaviano, e alle attività produttive, Polichetti. Questo incontro nasce da un invito da parte delle attività produttive di questo tavolo, che già è sorto nell'anno scorso, dove c'erano dei punti da discutere e quindi c'era stata inviata l'attenzione della nostra amministrazione dei punti fondamentali per far sì che le attività potessero ripartire oppure che il comune e l'amministrazione pubblica in qualche modo fosse vicino alla problematica. Si è discusso praticamente delle tasse, dei tributi e quindi abbiamo posto l'occasione per porre all'attenzione del tavolo stesso di una delibera che è passata in giunta in base a una richiesta che era pervenuta sul nostro tavolo e la richiesta praticamente riguarda la riduzione della posta patrimoniale unica che rispetto alla tariffa stante è stata ridotta del 38% per tutti i commercianti, per tutte le attività produttive, ovviamente rispetto ai limiti imposti dal governo. Mentre questa amministrazione invita le nuove attività che si inseriscono sul territorio, una tariffa esente, completamente esente. Quindi questo è uno dei primi punti. Poi ci sono altri punti che man mano in sinergia insieme vedremo di metterle, ci metteremo di nuovo a torno al tavolo per capire come poter ripartire noi come amministrazione, come possiamo essere vicino alle attività. Il nostro percorso è cominciato già lo scorso novembre attraverso una serie di interlocuzioni con l'amministrazione in cui cercavamo di rappresentare in maniera trasversale quelle che erano le difficoltà e le sofferenze che tutto il mondo delle attività produttive stava attraversando. Ricordo che il tavolo è composto da tutte le associazioni di categoria di Torre del Greco e cercavamo di studiare con il comune delle soluzioni che potessero essere di risposta immediata ad una sofferenza delle aziende, quindi aziende che stanno lottando per la sopravvivenza oltre che per un discorso di risposta alla pandemia e la costruzione di una visione per la costruzione quindi di strumenti che potessero ragionare in termini di sviluppo. Chiaramente oggi abbiamo avuto il primo confronto di carattere operativo ma già con un primo risultato perché l'assessore al bilancio aveva già recepito una serie di proposte che noi avevamo avanzato già a novembre che vanno uno nella direzione della risposta immediata e un altro dello sviluppo e quindi in particolare c'è una delibera che riguarda l'abbattimento delle tasse e che probabilmente l'assessore avrà già declinato in maniera più specifica ed un altro invece riguarda un abbattimento delle tasse nei confronti delle nuove imprese. Quindi cerchiamo sempre di guardare alla difficoltà immediata e allo sviluppo del territorio ma chiaramente ci siamo aggiornati col proposito di ragionare su un percorso condiviso a lungo termine.